Natale è alle porte, le festività sono pronte a riaccendere le abitudini dei cittadini dopo le chiusure imposte lo scorso anno a causa dell'elevato numero di contagi e ricoveri. Questa volta, almeno stando alla situazione attuale, sarà davvero Natale per gli andriesi. Certo, non come prima, impensabile rivedere quegli assembramenti spensierati pre-pandemia che oggi graverebbero sull'andamento dei contagi. E allora, che Natale sarà? Parola agli andriesi. Sinceramente non lo so, perché comunque per il fatto del Covid... Un po' più tranquilla rispetto a quella dell'anno scorso, speriamo. Naturalmente stare insieme agli altri è la cosa più bella per passare il Natale. 24 dicembre ad Andria, giorno in cui tantissimi cittadini, giovani e famiglie raggiungono il centro per un aperitivo o una semplice passeggiata in attesa della cena della vigilia. Nel 2020 eravamo tutti a casa, quest'anno ci si potrà ritrovare con amici e conoscenti. In quali modalità ancora non è ben chiaro se con intrattenimento o meno, ma gli andriesi intanto non hanno dubbi, servirà moderazione. Penso che lo si faccia per evitare assembramenti, però penso che sarà la stessa cosa. Nel senso, anche senza musica comunque. E c'è bisogno quindi di regolamentare un po', con un po' di ordine. Che cosa proponete? Secondo me sì. Tutti corretti dovremmo attenerci alle norme, quindi stare con le dovute distanze e gustarci quello che le festività ci offrono. Il vigile di Natale quest'anno deve essere una vigilia un po' triste. Perché un po' triste? Perché sta aumentando il Covid. Bisogna essere attenti ancora? Io dico che sarà meglio dell'anno scorso. A regola devi sempre mantenere la distanza, le mascherine, che tutti quanti vanno senza mascherine. Come me? Come in Perti. Siamo all'aperto. Siamo un po' più movimentate rispetto all'anno scorso. Si parla di possibilità di musica, tu sei d'accordo? Sì, sì, sì. Cioè con le dovute precauzioni, la responsabilità della gente più che altro, però sì. Speriamo sia una vigilia comunque attiva più che altro. Perché con il Covid anche presente sarà un po' più difficile. Ho saputo che ci saranno delle limitazioni, proibiranno i concerti, musica in strada. Che ne pensi? Triste, molto triste la cosa. Secondo te è possibile una festa, magari non come gli altri anni, ma con le giuste precauzioni si può ancora? Si può ancora secondo me. Io in realtà vivo fuori dall'Italia, torno soltanto per il periodo natalizio e per me tornare a vedere la vigilia di Natale è spettacolare, di Andria. La gente viene da fuori per vedere la vigilia di Andria. Quindi ora tornare adesso e sentire le sue limitazioni, un po' il cuore si ha... Secondo me si può fare, una festa con precauzioni si può fare. Vigilia insieme sì, dunque, ma con le dovute attenzioni. Questo è ciò che immaginano gli andriesi per il prossimo 24 dicembre ormai alle porte. Mascherine, distanziamento e intanto continuare con i vaccini. Passeggiando in centro c'è anche spazio per un po' di buona e soprattutto sana informazione. Abbiamo una vigilia in sicurezza. Ho la terza dose, perché che poi deve ancora portare la mascherina? A cosa serve se mi ho fatto la terza dose? Ma è per precauzione. Non vuol dire che questi vaccini... No, no, funzionano però bisogna mantenere una cosa in più. È una buona protezione, sì. È una buona protezione, sì.